Ciao, io sono Fabio e io sono Cinzia e bentornati su Funzioni dell'Animazione. Bentornati, bentornati su quello che probabilmente sarà un episodio storico di questo canale perché stiamo per parlare di uno dei film d'animazione stop motion più incredibili che ci sia, uno dei film d'animazione più incredibili che ci sia, uno dei film più incredibili che ci sia, quindi Chicken Run, Galline in Fuga. Diretto da Nick Park e Peter Lord, quindi proprio le menti pensanti e pulsanti di Hardman Animation, coloro che hanno creato tutti i nostri personaggi preferiti in plastilina, uscito nel 2000 e tiene ancora benissimo i tempi. Ma sì, asfalta qualunque altra roba più o meno. Fatto in collaborazione con i DreamWorks Animation Studios che dopo aver notato, diciamo, la verve incredibile che avevano ad Hardman hanno deciso di investire nello studio e questo, diciamo, è effettivamente poi il primo grande progetto che Hardman si trova a realizzare con tutto quello che ne consegue. Praticamente qualunque cosa si è moltiplicata per dieci, il budget, le persone che ci lavoravano, i modelli necessari, eccetera, eccetera. Esatto, questo è il film che ha lanciato la Hardman nel mondo dei lungometraggi e appunto ne abbiamo già parlato un pochettino nel nostro episodio Hardman nell'obiettivo, quindi l'episodio è tutto dedicato alla storia e analisi dello studio che se appunto è uno studio che vi interessa vi invitiamo a recuperare, ve lo lasciamo in descrizione. E appunto l'Hollywood pitch di Peter Lord e Nick Park per questo film era Facciamo la grande fuga ma con le galline. E questa cosa è piaciuta tantissimo a Jeffrey Katzenberg e a Steven Spielberg che appunto erano le due menti dietro a Dreamworks. Esatto, quindi appunto una grande fuga però europea e più che europea proprio britannica e questo british si respira molto forte all'interno sia della narrazione che dei personaggi e tutto il resto e l'idea dall'essere così semplice è diventata poi di una complessità notevole. Il film è molto molto alto a livello di tecnica, è forse una delle cose più complesse che hanno fatto, soprattutto per il tempo in cui è stata fatta, e ha richiesto molto lavoro. Il film racconta di Gaia e di tutte le galline dell'allevamento Tweedy che cercano di trovare un modo per scappare da questo allevamento in cui vengono confinate per fare uova che tra l'altro portano a minuscoli profitti e questo poi è un dettaglio importante e che quando non riescono più a farle vengono uccise, anche senza troppi sottointesi. No, infatti il film non si risparmia, in certi punti è anche abbastanza, non dico crudo, ma comunque è cupo. Sì, e doveva esserlo anche di più, in teoria. Sì, poi forse hanno smorzato i toni su alcune scene, perlomeno nel montaggio. Sì. E sì, per quanto la storia possa sembrare semplice, in realtà la sua realizzazione, la profondità dei personaggi e la forza di volontà sia di Gaia ma appunto anche delle altre galline tiene bene insieme tutto il film, oltre ovviamente alla colonna sonora incredibile. La colonna sonora è una delle più belle che siano mai state fatte, è di un'epicità sconvolgente così come di una delicatezza toccante, è meravigliosa, io me l'ascolto a ripetizione tantissime volte, musiche ovviamente di John Powell e Derrick Gregson Williams che hanno fatto un lavoro meraviglioso, fantasmagorico, non vedo l'ora perché uscirà il secondo capitolo di Galline in Fuga, Dawn of the Nugget, quindi l'alba della crocchetta dei Nugget, e non vedo l'ora veramente di risentire quelle musiche, come si evolvono, come cambiano, sarà un piacere immenso. Sì, che è un film che aspettiamo tantissimo, come saprete bene dalla nostra trailer reaction. Esatto. E appunto Galline in Fuga è in questo contesto molto rustico, molto campagnolo, questo campo di concentramento di Galline alla fine, perché anche proprio il visual, gli set... L'atmosfera proprio. Ricordano esattamente quello, in cui però avvengono anche queste gag, questi piani di fuga incredibili. Pazzeschi. Questo humor british che non manca mai in tutto ciò che è Arman, e quindi è sia divertente che... Amaro. Che amaro, esatto. Sì, cioè, già solo dai primi cinque minuti, che alla fine sono i titoli di testa in cui praticamente non c'è dialogo, si setta già un livello di tensione, creazione del piano, esecuzione, come si viene beccati, e di ritmicità soprattutto, che è pazzesco come riescano a darla in sincronia con la musica e le azioni. Cioè, vabbè, pazzesco, pazzesco. E credo, tra l'altro, che sia stato fatto nello Strat for Shear, se non sbaglio, eh, perché comunque la campagna inglese è bazzica da quelle parti. È tutto uno shire. Esatto, è tutto uno shire in Inghilterra. Anche se è un film del 2000, comunque in questo caso, come sempre, teniamo una prima parte senza spoiler e poi andiamo full spoiler per il finale. Quindi vi avviseremo nel momento clou. Quindi queste galline si trovano in questo pollaio, non riescono a scappare piano, dopo piano, dopo piano. Gaia continua ad andare in vacanza e... E a tornare dal deposito del carbone, mi sembra. Sì. E quindi non riescono proprio. Se non che un fatidico giorno, arriva proprio la risposta dal cielo, volando, Rocky Balboa, il grande gallo volante direttamente dal circo, che prende la panteruola della casa e finisce dritto sparato nel pollaio insieme a tutte le altre galline. E questa, diciamo, è la svolta, perché se lui può volare, anche loro potrebbero volare. Anche se l'ingegnere capo del pollaio non è tanto sicura di questa cosa, perché comunque le galline non hanno proprio la struttura per volare, volare, volare. E quindi Rocky, che di fatto vuole scappare dal circo, scende a patti con le galline e le galline lo nasconderanno e lui insegnerà loro a volare. Ed è bellissimo questo personaggio, brillantemente americano, in mezzo a tutti questi personaggi british. Interpretato nell'originale da Mel Gibson. Sì, invece tutti gli altri attori sono appunto attori molto british, di serie o comunque neanche troppo famosi, che è un contrasto molto bello. Si perde un attimo col doppiaggio italiano, anche se il doppiaggio italiano è bellissimo. Però è una cosa che si apprezza davvero tanto in quello inglese, quindi la differenza di accenti tra quello americano e quello britannico. E quindi qui parte un altro cavallo di battaglia di qualunque film in realtà, no? Quando c'è l'allenamento, se è fatto bene, è molto figo, no? Loro si allenano con varie tecniche, il saltare sulla borsa dell'acqua calda gonfiata, il darsi la spinta con l'elastico delle mutande, dei twidi, eccetera, eccetera. Ovviamente tutto cercando di rimanere nascosti, no? Dalla famiglia twidi, quindi dalla signora e del signor twidi, che ovviamente sono due campagnoli che tirano avanti a campare a furia di uova, anche se il mercato sta andando male. E nella storica frase la signora twidi dice proprio che lei è stufa marcia di fare minuscoli profitti con quelle stupide creature. Però un volantino profetico compare. E lì il marketing si vede la vera forza del target e del messaggio che viene dato. Sì, perché c'è proprio scritto stanca di minuscoli profitti, che è esattamente la frase che aveva detto due minuti prima, e quindi compra questo macchinario per produrre su larga scala chicken pies, quindi pasticci di pollo. Ovviamente della signora twidi per avere il tocco femminile. E quindi inizia questa corsa contro il tempo delle galline, perché mentre il signor twidi deve costruire questa macchina, loro devono effettivamente imparare a volare per scapparsene prima che giunga. E il momento fatidico. Che poi sulla validità del business di questa cosa non si sa. Comunque se fai fuori tutte le galline in un colpo solo, vabbè. Vabbè. Si saranno fatti i loro conti. Era la follia che parlava di un altro. E gli altri grandissimi personaggi ovviamente della storia sono appunto il signor twidi e la signora twidi. Quindi questa coppia marito e moglie che si danno le frecciatine, no? Al solito la signora twidi è un po' più sveglia e molto più spietata. Però il signor twidi sospetta che le galline siano rivoltose. E non rivoltanti, come invece lo corregge. Motivo per cui anche le galline devono nascondersi e quindi hanno questi marchi ingegni incredibili anche all'interno delle loro casette in cui girano le tavole per nascondere tutto ciò che all'occhio umano sembrerebbe sospetto. Tornando un attimo al macchinario che viene installato dalla coppia, torna il grande cavallo di battaglia che sono i marchi ingegni, no? Gli ingranaggi, le macchine che sono grandi, che si muovono, in cui si entra nei cunicoli e c'è. C'è anche in questo film ovviamente non può mancare. Ci deve sempre essere questo aspetto in ogni loro corto slash. Che sia in una collina con delle pecore o che sia in una stazione spaziale. Questa cosa ci deve essere. Punto e basta. Ovviamente anche qui non manca e anche qui è bellissima, fatta benissimo in modo sublime, davvero incredibile. Sì, e parlando di appunto macchinari grandi mi viene anche in mente che a livello tecnico la sfida grande anche di questo film è far coesistere sullo schermo personaggi piccoli come le galline e personaggi grandi come gli umani. Quindi sono proprio due mondi che hanno due scale totalmente opposte e che trattandosi di stop motion, che è proprio qualcosa di fisico, non è che possono costruire dei set giganteschi, quindi dove viene contenuta. Perché ovviamente il puppet più piccolo che deve essere animato non può essere minuscolo, se no non si riesce ad animare bene o ad avere l'effetto desiderato e quindi il puppet più piccolo decide la scala e poi quindi quello più grande deve andare di conseguenza. Quindi se notate anche all'interno del film gli umani e le galline sono spesso in inquadrature separate o comunque non c'è quasi mai l'umano intero e la gallina intera nella stessa inquadratura, appunto perché dovevano fare se no una scala troppo grande di set di modelli. Sì, soprattutto per quello, perché comunque se vai a mettere la gallina a dimensione minima tutto il resto diventa gigante, diventa proprio enorme, cioè tipo pensate alla casa dei tweedy che è 15 volte più grande delle casette delle galline, non era fattibile proprio come cosa. E quindi usano tutti questi trucchi magari di lasciare solo le mani, magari di mettere sì il personaggio a figura intera, però magari la gallina è molto molto piccola, non è un puppet di per sé, perché tanto viene tenuta per il collo, deve solo dondolare, quindi non ha altre possibilità di animazioni o vengono usati trucchi di prospettiva o altre cose di questo tipo. Quindi questa cosa c'è sempre ed è studiata in ogni inquadratura per funzionare e non rompere mai le scatole né ai puppet umani né ai puppet di galline. Sì, che poi è proprio una cosa che bisogna farci attenzione perché in realtà durante il film non è che dà fastidio o si nota più di tanto, proprio se uno lo sa appunto ci fa caso, altrimenti io direi che fila via liscio. Sì, 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 assolutamente la regia, il montaggio eccetera non fanno notare niente, quindi tutto scivola via logicamente. E sempre sul lato tecnico comunque anche i puppet sono abbastanza complessi proprio tecnologicamente. Molto, molto. Quindi hanno questa armatura tipicamente in metallo con tutti i giunti che si possono ruotare, spostare, poi hanno questa copertura in silicone e in più la testa di solito ha tutte tipo le bocche che si possono interscambiare. Sì, per fare il labiale. Esatto, con anche parti in plastilina appunto per dare la possibilità agli animatori di ottenere veramente la performance che vogliono dalla loro marionetta. Sì, è un'ingenializzazione molto complessa e anche molto storica, considerate che comunque il film viene prodotto prima degli anni 2000, quindi la computer grafica praticamente non c'era e tutto quello che è a schermo è praticamente vero, realmente fotografato. Lo sfondo, il cielo, al massimo c'è del blue screen o del green screen per unire insieme due cose. Però la cosa si ferma più o meno lì. Sì, ed è anche il motivo, diciamo, principale per cui tiene ancora molto bene dopo più di 20 anni, perché comunque la fotografia è vera, sono scatti praticamente fatti a modelli veri, illuminati con luci vere. Certo. È un po' come i film d'animazione in 2D, per esempio di Miyazaki, che nonostante l'età, però comunque quei fotogrammi sono realizzati a qualità infinita, essendo proprio disegnati dal vero, quindi in realtà basta riscanalizzarli per ottenere una qualità pazzesca. Sì, invece il 3D ha un po' questo difetto che più si va avanti con gli anni, più diventa vecchio, perché la gente comunque si abitua e quindi se vai a vedere Toy Story è terribile, se vogliamo. Sì, o mi viene in mente Chicken Little o i Robinson, quei primi film in 3D che magari sono invecchiati bene perché erano abbastanza semplificati, ma altri che invece cercavano di spingere un po' di più non sono invecchiati così bene. In realtà in Toy Story è invecchiato parecchio bene, il che la dice molto lunga su quanto sia incredibile come film, però se vedete certe cose come i bambini o il cane, cioè sono terribili, vanno veramente paura. Cioè di fatto il bambino cattivo di Toy Story non è che è brutto e cattivo per come è scritto il personaggio, no, 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 proprio perché il modello fa paura. Esatto. E in più la stop motion ha ovviamente questo fascino dell'essere qualcosa di fatto a mano. Eh sì. Infatti proprio l'Arman ha questa caratteristica che rimangono le ditate sui modelli, perché appunto c'è della plastilina, quindi rimangono proprio le impronte digitali e ovviamente cioè quasi si percepisce tutta la cura e il dettaglio che è stato messo in ogni fotogramma. Sì esatto, perché è tutto costruito fisicamente, cioè le capanne sono fatte probabilmente di legno vero, magari in alcuni casi no, perché serviva una certa flessibilità eccetera, però i volantini sono veramente stampati, magari con all'interno una rete metallica molto sottile per poter essere modellati ed è tutto così. Il tessuto è vero tessuto, ripeto, a meno che non si debba animare in un certo modo, quindi utilizzano materiali che simulano il tessuto ma che rimangono rigidi dopo averli toccati e la cura che viene messa nella costruzione di tutti i set, di tutti i prop, che a volte sono fatti di due dimensioni in modo che siano prendibili sia dal puppet grande dei tweedy, sia dal puppet piccolo delle galline e viceversa, e dalla teiera alla cuccietta per le galline, al terreno, a tutti gli strumenti che vengono usati, c'è uno sbattitore, ci sono i cucchiai, ci sono i rubinetti dell'acqua, ci sono le viti, perché poi si va ancora di più nel meccanico sul finale, ci sono i chiodi, i martelli, le chiavi inglesi, e tutto viene costruito perché non è che è una chiave inglese già fatta e finita, perché non è la dimensione corretta, quindi la devi rifare in scala. E quindi, cioè, vabbè, ogni fotogramma è ricchissimo di dettagli e ovviamente di texture, che non sono texture, è realtà, quindi non hai diciamo carenze di qualità, non hai problemi di rendering coi tempi troppo lunghi, non hai problemi di glitch, di bug, eccetera, eccetera, è un ambiente che viene fotografato, la follia sta nel muovere tutto ciò e nel renderlo fluido, che è una follia a dei livelli inimmaginabili, cioè è pazzia, perché voi magari all'inizio ci pensi e dici, wow, pazzesco, ma la roba incredibile è che dopo un po' quella roba passa in secondo piano e il film ti ingloba completamente e non ci pensi più che quella roba in realtà se la fermi, la muovi fotogramma per fotogramma, vedi i pezzi che cambiano e l'animazione che muove pian piano tutte le dita e ogni piuma della coda di Rocky che si muove ondeggiando quando... cioè, vabbè, ragazzi, follia, follia, cioè pensate solo che quando una cosa dondola, no? avrete il tipo che è lì con gli occhiali che zoomano, tipo quelli da dentista o da modellista e che quindi sposta l'oggetto sempre di meno per farlo fermare, cioè questa roba è follia o che quando sudano, quando c'è la pioggia, gli animatori sono lì con gli stuzzicadenti a muovere le palline trasparenti sui modelli, cioè scusate che io continuo in questo fiume di pensiero ma è veramente assurdo, cioè immaginate quando c'è la folla di galline, ok? che vengono tutte animate insieme tipo la classica scena, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura e si mettono ad urlare tutte insieme, cioè il livello di passione e di tempo che ci viene messo, il livello della produzione è qualcosa di fenomenale, è pazzia, cioè mentre che lo vedi non te ne rendi nemmeno conto ma se ti fermi a pensare 5 secondi, dici ma come avete fatto, ma come, cioè ci vorrebbe la parola tra come e avete che è il format di Slim Dogs, però come Bip avete fatto, cioè ma veramente come perché è davvero incredibile, andatevi a vedere un po' di dietro le quinte di questo film perché è follia, come tutti i film dell'Artman sì, anche perché poi la cosa più difficile che sono, diciamo, gli effetti quindi tutto ciò che è acqua, gas, fuoco, eccetera Arban trova sempre poi quei trucchetti, quei materiali alternativi che simulano, che danno l'idea di ma che non sono poi effettivamente, ovviamente, acqua, vapore e fuoco che però hanno anche lì quel fascino, no? cioè qui è un film pieno di fango, se vogliamo e se voi state a contare tutte le goccioline di fango che vengono spostate e animate non finite più e quindi anche comunque gli effetti, essendo realizzati anche fisicamente si legano bene col contesto, cioè fa parte tutto comunque di quella caratterizzazione di quella stilizzazione del film, quindi non fanno appugni con tutto il resto come invece, adesso non è solo per denigrare il 3D però a volte si vede proprio che gli effetti cioè magari il modello, il mondo, le texture, il rendering, lo shading sono fatti bene e poi invece gli effetti stonano tantissimo, no? invece qui siamo in un mondo tutto coerente e che appunto aiuta a rendere il tutto molto molto magico in più c'è anche proprio lo stile del design di Arman nei personaggi quindi questi occhi ravvicinati e queste bocche larghissime che sono appunto stati diciamo inventati o comunque portati all'Arman da Nick Park che sono appunto caratteristiche che erano presenti già nel suo primo corto a Grand Day Out con Wallace e Gromit e che sono diventati una cifra stilistica proprio dello studio e quindi anche in termini di design è tutto molto carino e anche proprio il character design è bellissimo sì uno dei personaggi che ci siamo dimenticati di citare è appunto Cedrone questo vecchio gallo che ha combattuto nella seconda guerra mondiale nella Royal Air Force divisione pollame e che adesso è in questo pollaio e fa il gallo quindi al mattino si alza e canta chicchiricchi e basta fondamentalmente basta però ha un po' il compito di tenere in riga e in ordine le galline anche se le galline in realtà fanno un po' quello che vogliono alla fine sì però diciamo che non è che non è d'accordo cioè anche lui in realtà vorrebbe scappare però lui è un po' più tranquillo no? perché è il gallo non è che gli freghi qualcosa via sì le uova tanto non le deve fare no infatti quindi lui è un po' più agiato ha la sua branda, ha la sua capanna con i suoi reperti di guerra, le foto, i modellini, le bandiere per la regina, per sua maestà eccetera eccetera benissimo quindi detto questo passiamo alla parte spoiler quindi se non l'avete visto disiscrivetevi da questo canale per favore non siete degni molto semplicemente ci spiace però se non l'avete visto davvero andatevelo a recuperare questo film è una chicca superlativa e invece per chi l'ha visto passiamo alla parte spoiler il primo colpo di scena è chiaramente che Rocky anche se si capiva benissimo in realtà è abbastanza ovvio fin dall'inizio però in realtà Rocky non sa volare viene messo in un cannone e sparato dopo tutto è al circo e quindi lui sapendo questa cosa può fare finta di niente finché diciamo la sua ala è rotta però da quando per sbaglio lui applaudendo a una festa gli si toglie la benda e l'ala gli è curata quindi diciamo che è caduta la scusa dell'ala rotta e può dimostrargli come vola e allora in quella notte nonostante lui si penta perché alla fine ha legato con queste galline soprattutto con Gaia ne capisce il tormento e il problema però in realtà non può aiutarle e lui vorrebbe tornare alla sua vita da libero ruspante solitario e quindi nella notte fugge perché in realtà non c'è mai stato veramente il problema di una gallina che scappa ma di tutte le galline che scappano che è una cosa proprio di un altro livello e quindi scappa e le galline rimangono da sole bellissima la scena in cui mette il pezzo di poster con il cannone che si spiega tutto non devono dire niente e le galline si prendono un po' il panico e cominciano a litigare tra l'altro scena della rissa di una bellezza fenomenale con Cedrone animazione superba mamma mia con Cedrone che ha la faccia nel fango e poi viene tirato su quando gli viene la domanda che si mordono le zampe cioè vabbè robe assurde e poi però una delle cose più belle che io abbia mai visto in un film ovvero che si rialzano con una forza e una potenza che solo Gaia che ha un'idea perché lei comunque è la mente la mente che crea i piani ce li ha tutti lei e funzionerebbero se non fosse per l'incompetenza di tutte le altre che diciamo le mettono anche un po' i bastoni tra le ruote anche un po' di sfortuna qui e lì sì certo c'era un po' di sfortuna eccetera eccetera anche perché lei viene tenuta particolarmente d'occhio dal signor Tweedy che lei è il capo e quindi decidono di costruire una carretta ora quando guardate questa scena io penso che a nessuno la pelle resti immobile cioè io ho la pelle d'oca che mi esce dalla maglia proprio che dice mamma mia proprio in italiano così ed è incredibile la musica la costruzione il ritmo di quelle scene l'epicità che va a creare perché arrivano proprio al limite no? al continuare a costruire rubano gli attrezzi grazie ai due topi altri grandi due personaggi del film che sono diciamo gli spazzini che riescono a procurare roba vengono scoperti dal signor Tweedy e lo catturano lo mettono sotto la baracca e continuano nonostante tutto perché stanno scappando e quindi lo possono fare e quella roba è pazzesca è incredibile e poi la carretta ragazzi cioè quando apre le ali io penso che sia una delle scene più epiche che sia mai stata fatta in generale musica cioè papè te sì la tensione della scena è studiata benissimo il ritmo tutto quanto anche perché è comunque anche molto veloce perché in realtà per la maggior parte del film cercano appunto di volare con le loro stesse forze e poi mi piace anche molto come arrivano all'idea della carretta perché improvvisamente Cedrone acquista un altro peso all'interno della storia perché lui è sempre stato il classico personaggio che parla così tanto perché è vecchio e quindi racconta sempre le sue storie di questa fantomatica carretta ma e via i blocchi esatto ma nessuno lo sta particolarmente a sentire quando appunto da un fulmine a ciel sereno Gaia si rende effettivamente conto che la carretta potrebbe essere qualcosa che vola e quindi senza saperne nulla di aviazione decidono di costruire praticamente un aeroplano è totalmente folle ed epico e appunto quindi succede anche tutto abbastanza velocemente è una scena che dura 5 minuti ed è incredibile come sia ben studiata cioè è folle è veramente follia sì anche perché poi è un susseguirsi di eventi che continuano ad alzare l'asticella della sfida a cui vanno incontro tra cui proprio la signora Tweedy che si attacca al filo che era rimasta attaccata all'aeroplano però non stride no perché in alcuni film il finale viene tirato per le lunghe con tipo il protagonista che sta correndo con l'oggetto del desiderio in mano gli cade giù dal palazzo inciampa non ci arriva cose di questo genere invece qui per quanto siano un sacco di eventi uno dietro l'altro che alzano sempre di più l'asticella in realtà sono studiati molto bene e non danno fastidio no assolutamente anche perché in realtà è la prima volta che la signora Tweedy entra in azione sì e cioè viene messa a cappò diciamo una prima volta e torna solo una seconda volta nell'arco di pochissimo tempo perché comunque sviene cioè è tutto molto plausibile ed è questa la cosa assurda è tutto molto plausibile nonostante sia epico e totalmente fuori di testa non c'è niente che dici no no ma non è possibile ma come hanno fatto non è possibile perché in realtà già ci arrivano a fare quelle cose ti mostrano durante il film che loro sanno costruire catapulte aggeggi sanno cucire sanno fare quindi tutte quelle competenze poi le mettono insieme e lo dimostrano anche proprio durante la progettazione con Von la progettazione c'è drone che è capo macchinista baba che fa le uova così da pagare frego e piglio che tra l'altro solo adesso mi sono reso conto del significato di frego e piglio no scusatemi baba che cuce tantona che fa le uova e tutte le altre galline che sono lì ad avvitare a mettere chiodi cioè tutto quello che hanno detto sottovoce nel film ovvero il fatto che sono molto ingegnose e riescono a costruire roba le mettono alla fine in quest'ultima grande opera di ingegneria che poi non è che non ha problemi no perché poi parte però gli tira giù la rampa la rampa che è una tavola di legno sopra a una sdraio cioè queste cose sono follia va bene se vogliamo proprio trovare il perone d'uovo dove le hanno trovate le ruote di questo macchinario no perché quella è l'unica roba un po' eccessiva perché sono molto grandi dove le vai a trovare però al di là di quel dettaglio che è molto tralasciabile è veramente incredibile per poi arrivare alla scena in cui c'è drone no diciamo si toglie un po' la maschera del grande condottiero e soldato perché alla fine lui era una mascotte non ha mai guidato un aereo e anche quella cosa lì diciamo si abbassa un po' cioè si mette allo stesso livello infatti è lì che è pronto a pedalare perché in realtà non ha mai fatto quella cosa lì però in realtà lui deve continuare a guidare il pollaio anche fuori e quindi al rapporto signore e si va va bene è incredibile è incredibile sì appunto anche questa parte finale in cui c'è drone si mette ai comandi è molto bella cioè proprio l'evoluzione del suo personaggio è fantastica come lo sono anche tutte le evoluzioni degli altri personaggi perché sono caratterizzati tutti molto bene hanno tutti un ruolo ben preciso per quanto le galline potrebbero essere tutte uguali scambiate l'una con l'altra le principali intanto hanno un design che le contraddistingue molto bene ma poi anche proprio una personalità completamente diversa sì e insieme alle galline si evolve proprio anche il personaggio di Rocky che all'inizio deve un po' ingannarle però poi si affeziona anche lui a questo pollaio e fa anche un po' sua la missione perché infatti torna cioè lui se n'era scappato se ne stava sul triciclo con la radio tutto preso benissimo e vede anche lì il marketing no il poster dei pasticci della signora Tweedy e decide allora di tornare chiudendo questo personaggio che si redime sì e diventa parte proprio vitale dello stormo se stormo si dice anche per le galline sì sì esatto e tra l'altro c'è molto di sottofondo anche tutta questa tematica degli allevamenti no che nel 2000 era una cosa in Chicken Run 2 invece vediamo che la cosa si sta alzando parecchio perché comunque siamo nel 2020 e gli allevamenti intensivi sono un'altra cosa però già c'era quel discorso lì no il discorso di Gaia che racconta di come lei non abbia mai sentito l'erba sotto le zampe lei è nata lì e non è mai uscita da quel recinto non ha mai visto cosa c'è oltre quella collina sono anche tutte tematiche comunque dello sfruttamento degli animali per gli allevamenti eccetera e di come non ci si ponga problemi a comprare semplicemente una macchina per fare piazza pulita di tutto perché si potrebbe ottenere un guadagno più alto quindi è interessante poi anche quest'altro lato della medaglia che è la parte diciamo scura del film che non è per niente drammatico non è per niente pesante anzi è molto leggero però nonostante ciò come in tutti i film della hardman c'è sicuramente il divertimento l'emozione il sentimento però poi c'è anche l'amarezza perché come in tutte le cose è così che va la vita e quindi serve il bello e il brutto si e come anche un po' in tutti gli altri contenuti della hardman c'è anche questa simbiosi tra questo contesto molto normale casalingo e quotidiano quindi un pollaio in una fattoria qualsiasi in inghilterra veramente qualsiasi e poi questi avvenimenti super epici queste macchinazioni incredibili che è anche proprio il concetto alla base alla fine di wallace e gromit quindi certo questo uomo dei sobborghi con il suo cane che in realtà vivono epiche avventure tipo andare sulla luna esatto e hanno una delle panetterie più robotizzate che si sia mai vista al mondo è proprio la capacità di immaginare situazioni e costruzioni incredibili fatte da persone normalissime davvero si partendo da un contesto che più normale non c'è che è anche lì secondo me tutta la magia di Arman e tra l'altro sempre con le tematiche importanti di questo film io trovo stupendo il personaggio di Gaia e proprio la sua capacità di vedere oltre cioè la frase che lei dice che i ricinti non sono solo attorno a loro ma sono nelle loro teste secondo me è una delle frasi motivazionali più belle di sempre soprattutto in un film perché il suo personaggio ha una forza di volontà e appunto una capacità di sognare di vedere oltre e di raggiungere i suoi obiettivi che secondo me ce ne sono pochi così nel cinema sì no è un personaggio femminile tra l'altro fatto nei primi anni 2000 che ha una forza travolgente davvero è incredibile come personaggio tra l'altro che nel film ci viene mostrato molto bene come abbia proprio le due facce perché quando deve essere capa davanti alle altre è molto forte è molto risoluta ma rimane comunque una persona tra virgolette una gallina qualunque quindi appena esce diciamo ha un po' questo crollo ha un po' questa mancanza che non riesce a reggere cioè diciamo che regge fino a un certo punto e poi va dietro le quinte e diciamo scoppia un po' che però ci sta perché la rendi umana non la rendi un qualcosa che non è vero non è raggiungibile mostri un lato che è comunque di fragilità quindi tanta roba sì anche proprio i momenti di riflessione che ha sul tetto della capannetta in cui vivono sono di una poeticità uniche perché senza dire anche solo una parola solo da micro movimenti di questo pupazzo cioè comunica un messaggio in maniera potentissima ed è veramente cioè quei momenti lì sono proprio qualcosa di incredibile compreso anche il momento che dicevamo prima in cui attacca la parte del poster mancante di Rocky sulla parete della casetta delle galline e lì si vede proprio il suo crollo più basso del film e nonostante questo comunque si riprende e non molla mai anche perché comunque il film lo mette molto ben in chiaro per lei mollare vorrebbe semplicemente dire morire quindi non ha nulla comunque da perdere e però anche quindi in questa situazione che sembrerebbe senza speranza lei ce ne mette comunque un sacco portandosi anche dietro il morale di tutte le altre è veramente un personaggio di una forza di carattere unica e questa roba traspare da modellini di silicone e metallo e pongo alti 30 centimetri che vengono mossi due secondi al giorno per anni esatto cioè capite la follia di tutto ciò e tra l'altro è sì anche un film molto femminile se vogliamo nel senso tutti i personaggi forti alla fine sono femminili anche nella coppia Tweedy è lei che detiene il potere assolutamente come nel pollaio le galline sono molto più forti dei due galli che ci sono sì perché Cedrone viene brutalmente ignorato e Rocky diciamo che è un po' sopraffatto anche se ovviamente ha lo charm americano che ha il suo ascendente però finisce lì la forza di volontà il coraggio l'ostinazione sta tutta nei personaggi femminili comunque sempre in un film del 2000 quindi quando comunque si faceva anche meno attenzione a queste tematiche qui non hanno avuto diciamo il dubbio di farlo ovviamente stai facendo un film sulle galline quindi i personaggi principali sono femminili però comunque nulla si risparmiano in questo senso assolutamente assolutamente anche perché poi si arriva allo scontro finale tra Gaia e la signora Tweedy con Rocky che lancia le uova lei che usa le forbici con la punta arrotondata che non si possono vedere lo vedi che non tagliano niente assolutamente nulla la tensione la signora Tweedy che alza l'accetta e si fa fuori da sola perché Gaia la più grande arma che ha è la testa quindi vedi proprio lo sgancio dalla bomba nucleare che è tantissimo con l'agriota lì con un cedrone che che alza la carretta la signora Tweedy che entra con una precisione incredibile all'interno della macchina si blocca nella valvola da non bloccare e c'è proprio il fungo atomico della salsa che distrugge tutta la fattoria Tweedy cioè vabbè cosa gli vuoi dire? cosa cavolo gli vuoi dire? che questi hanno fatto il campo di concentramento della seconda guerra mondiale in un allevamento per Gallide cioè boh e arrivano appunto in questa isola paradisiaca in cui finalmente riescono a vivere felici e contenti sì con i primi pulcini che cominciano a imparare dall'ingegneria e con invece Frego e Piglio che discutono che proprio filosofeggiano sul dramma vecchio come il mondo che non poteva mancare in un film di questo tipo ma se vuoi partire con un allevamento di Galline ti serve un uovo o ti serve una gallina? voi che cosa ne pensate? esatto se voi se voi domani partireste dal uovo o dalla gallina? esatto esatto fatecelo sapere assolutamente qual è la vostra risposta e una sola è la risposta giusta noi ovviamente lo sappiamo benissimo quindi noi veramente cioè potremmo continuare a parlare di ogni singolo fotogramma di quanto è bello eccetera eccetera però credo che si sia capita l'amore che c'è nei nostri confronti verso questa pellicola audiovisiva che abbiamo già visto un numero considerevole di volte non si contano più voi cosa ne pensate? qual è la vostra scena preferita? qual è il vostro personaggio preferito? fatecelo sapere nei commenti su youtube twitter instagram spotify usate proprio il posto in cui più vi trovate comodi come le galline si trovano comode alla fine del film noi non vediamo l'ora di parlare e di vedere anche questo chicken run 2 che ci spaventa e ci emoziona insieme staremo a vedere che cosa si tireranno fuori si se siete anche interessati a harman vi ricordiamo che abbiamo fatto altri episodi appunto di approfondimento su questo piccolo grande studio di bristol vi lasciamo tutto in descrizione e sui suoi altri film come sean the ship vita da pecora e sean the ship farmageddon se vi interessa attivate le notifiche perché comunque col tempo recupereremo tutta la loro filmografia in forma di podcast esatto iscrivetevi mettete mi piace condividete con tutti gli amici che sono amanti delle galline in fuga o dei polli in generale perché sempre bello il pollo come immagini e noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su funzione animazione ciao a tutti ciao 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 mi si è storto il cervello mi si è storto il cervello mi si è storto